Bene, iniziamo con le presentazioni della categoria varieté. Iniziamo con il premio al terzo classificato della categoria varieté e invitiamo sul palco per consegnare il premio al terzo classificato della categoria H, solisti fino a 18 anni, il signor Damiano Ragnini, presidente del consiglio comunale. Il signor Damiano Ragnini, presidente del consiglio comunale. Dunque si classifica al terzo posto della categoria varieté H, third prime in categoria H, Gioao Palma dal Portogallo. Allora, resti con me, presidente, per cortesia. Per consegnare il premio al secondo classificato alla categoria H, second place in categoria H, Diego Gatt dalla Francia. Il terzo e il secondo classificato ricevono una borsa di studio. Il third and second place get a medal and a scholarship. Passiamo alle presentazioni, alle previazioni, scusate, della categoria I, price giving for category I, solisti senza limiti di età, solo with no age limits. Invito a raggiungermi sul palco, please come on the stage, l'assessore Romina Calvani. Al terzo posto, nella categoria I, third place in categoria I, from Russia, dalla Russia, Nikolai Ovchimnikov. Passiamo al secondo classificato della categoria I, second place in categoria I. In categoria I, dall'Italia, Valerio Russo. Alla prossima categoria, il secondo classificato ricevono una medaglia e una borsa di studio. Il secondo e il third place get a medal and a scholarship. Valerio vince anche uno dei concerti premio di PIF 2017. Valerio get also one of the concert offered as prizes by PIF 2017. Suonerà, he's going to play, in Castelfidardo di Modena. PIF Castelfidardo è anche un'opportunità professionale. PIF Castelfidardo means also professional opportunities. Tra i concerti premio in palio per la quarantaduesima edizione, uno è riservato proprio ad un concorrente italiano della categoria H, segnalato dalla giuria. Grazie alla collaborazione con il Museo Internazionale della Fisarmonica di Castelfidardo. Invito sul palco per consegnare il premio, I would like to invite on the stage to give the prize, il signor Riccardo Serenelli, Presidente della Commissione del Museo della Fisarmonica di Castelfidardo. Riccardo Serenelli, Presidente of the Board of the Museum of the Accordion of Castelfidardo. Buonasera. Buonasera a tutti. Il quarto premio nella categoria H, Solisti fino a 18 anni, Concert for Category Age, solo is up to the age of 18, va a Manuel Markegiani. Eccoci ora al vincitore della categoria H. It's time to call the winner of the category H, from Russia, Dalla Russia, Aleksandra Mihailova. Di Macconnell, by Macconnell, Lai, Lai, Schwanz, Aleksandra Mihailova. Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Gustavo Aliandre de Almeida Grazie a tutti 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 Grazie a tutti